Benvenuti, io come Presidente sono Roberto Lorenzo, Presidente dell'USAP, anche Consigliere del CNA, quindi il clima viene organizzato insieme, noi come l'USAP abbiamo cambiato il Consiglio da poco e stiamo cercando di coinvolgere un po' tutti, non solo i professionisti che sono d'ufficio iscritti all'USAP, quanto per coinvolgere tutti gli allenatori, perché con l'arrivo della legge sul lavoro dello sport, un po' tutti verrete coinvolto, quindi cercheremo di aiutare. Ringraziamo Carlo Antonetti che dopo un po' di… ah, giustamente, dopo un po' di… questo non serve per voi ma serve per la telecamera, che Carlo ci permette di fare un clinic dopo qualche anno e do la parola a lui, la palla chiaramente del giocatore, che non sarebbe male, per darvi un saluto. Io saluto tutti voi ma soprattutto Roberto Di Lorenzo, la sua associazione, l'USAP, il CNA che hanno dato questa disponibilità a arricchire questo torneo, questo trofeo d'Abruzzo in maniera anche importante da un punto di vista tecnico, oltre al grande valore delle squadre. è per me un grande piacere che poi, peraltro, ci sia un parterre d'erroire di questo genere, quindi saluto con affetto Andrea Capobianco, con il quale abbiamo costruito un percorso straordinario, che siamo legati veramente ad un ottimo rapporto. Saluto Andrea Trinchieri, che è speciale, io lo ricordo già all'inizio della sua carriera, ed è una persona veramente preparatissima e che si sta affermando in Europa e nel mondo. Così come saluto Alessandro Ramagli, che è stato il mio ultimo allenatore, abbiamo vissuto momenti straordinari con Capobianco, ma anche con Ramagli, perché raggiungere comunque una salvezza per una squadra come te era una cosa straordinaria. Quindi faccio un augurio di buon lavoro a voi, ai relatori. Io avevo la tessera d'allenatore, attenzione, a 25 anni, dove per fare la tessera si sono arbitrati 30 partite, se non mi ricordo male. 40, 40, sì. Però finita là, per fortuna, per me e per gli altri. Bene, buon lavoro e grazie a tutti. Grazie. Vi presento prima i tre allenatori che insieme a voi comporranno questo nuovo modo di avere un incontro con gli allenatori. Devo ringraziare Andrea Finchieri che mi ha suggerito di utilizzare questo format, che è adesso molto utilizzato a livello europeo, l'open speech, che permette agli allenatori di interagire con più relatori, con più persone sul campo. Io vi ho mandato con un po' di ritardo colpevole un link che vi permette di mandare. Ho visto che qualcuno ha già mandato delle domande. Sarebbe bene che un po' tutti, io ve l'ho inviato via e-mail, Nazareno vi ha anche dato gli estremi, se volete fare domande, in modo tale che vediamo di accorparle, di non trovare più domande che si vanno a ripetere. I tre allenatori hanno in comune, per esempio, una cosa. Sono tutti quanti stati eletti allenatori dell'anno con le loro squadre. Tutti quanti hanno lanciato giocatori giovani e anche americani. Per esempio, parlavamo prima con Andrea che Heinz, la prima volta che è arrivato in Italia, l'ha portato lui. Tutti hanno una carriera che parte dalla base, grande lavoro col settore giovanile. Alessandro fa parte di questa scuola che ha espresso molti allenatori di alto livello in Italia. Andrea viene dall'Olimpia e ha allenato molte squadre in Italia per poi arrivare ad andare all'estero, vincere all'estero e negli ultimi anni sta facendo un lavoro straordinario con le squadre in Germania, soprattutto negli ultimi anni con il Bayern. Tutti caratterizzano le loro squadre con un gioco riconoscibile. Sono, credo, leggere tutti i palmarè, perderemo 20 minuti per dire tutto ciò che hanno vinto, ma credo che tutti quanti hanno vinto campionati. È una cosa, sono persone di successo, ma persone che basano il loro successo sul lavoro sul campo. Ed è una cosa che è importante. E migliorando i giocatori, perché molto spesso i giocatori partono, arrivano, sono più o meno conosciuti, hanno delle caratteristiche e poi bisogna migliorarli. Anche negli anni è una caratteristica molto importante degli allenatori, soprattutto di questo tempo, di questi tempi. E credo che chi come voi allena anche alla base è fondamentale che capite questo. Allenare ad altissimo livello non vuol dire mettere insieme degli schemi, ma curare i particolari. Io ieri vedevo le partite e come c'erano correzioni su cose basilari, sul modo di passare la palla a un pivot, sul modo di muoversi senza palla, perché la palla a canestro è fatta di piccole parti che messe insieme fanno un totale. Questo è quello che loro fanno sul campo e che noi come CNA, per esempio, lavoriamo proprio su questo. Parti e totalità insieme. Un blocco, un pick and roll, non è una cosa complessa, ma è una serie di movimenti coordinati, fatti da blocchi, da palleggio, da passaggi, da usare il tempo giusto per usare un blocco. E queste sono cose che dobbiamo capire. Non è che correggiamo le sponde e non le sponde. Sì, va bene, perché anche le sponde, per esempio, ieri un paio di volte notavo qualcuno si arrabbiava perché veniva usata bene la sponda. Solo, mi ricordo, un passaggio lì, no, però era con Scavolini, in cui il poverino ha preso la palla fuori campo perché il pallone andava in paradiso. Se uno usa la sponda giusta, fa la giusta lettura, ma non ha la corretta esecuzione del passaggio, non serve a niente. Ce lo dobbiamo ricordare tutti e su questo dobbiamo basare il nostro allenare. Adesso partiamo. Vi prego, se riuscite a collegarvi, di andare anche sulla applicazione, in modo tale che io qui so davanti le vostre domande. Cominciamo la prima domanda che è arrivata, una domanda, no, è arrivata stamattina, per Andrea Trinchieri. Come gestire al giorno d'oggi un ragazzo giovane in un contesto professionista ad alti livelli? Come gestire un ragazzo giovane? La risposta è che ragazzo è. Io penso che la palacanestro sia forse lo sport che si sta evolvendo. Questo non vuol dire migliorando, è cambiando nell'unità di tempo più veloce. Se voi guardate il vertice, guardiamo tutti al vertice, le finali NBA. Guardate le finali NBA del 2012-13, vedete una marea di pivottoni bellissimi, bravissimi, il team Duncan, di qua, di là. Andate a vedere queste... Giugno, cinque guardie. Non sono passati trent'anni. E io non dico che andava bene prima, non dico che va bene adesso. Sono più o meno venti e passa anni che faccio questo mestiere. L'ho fatto in promozione, l'ho fatto in Eurolega. E... Anch'io ho dovuto adattarmi, perché sennò... si perde. Si perde opportunità, si perdono posti di lavoro, si perdono le partite. e... la prendo larga, eh. Anni fa noi potevamo come allenatori avere un progetto tecnico, tattico, gestionale. Prepararci in estate, mettere giù sulla carta tutto quello che c'era da fare e poi si arrivava. Guido Rosselli, che è un po' che è in giro, potrà confermare poi arrivavi, entravi con la prestagione, facevi i tuoi 40 giorni di prestagione e sviluppavi un concetto che avevi già elaborato. Adesso non è più così, perché i giocatori in media cambiano l'80% della squadra ogni anno, hai giocatori con livello di conoscenza non molto disomogeneo e allora bisogna essere situazionali, non di sistema. Ogni situazione va analizzata per quello che è e questo intendo anche per un giocatore giovane. Quali sono le motivazioni di questo giocatore? qual è il suo background? Cosa sa fare? Cosa non sa fare? Cosa si aspetta da voi? Cioè, se voi non fate una digressione di questo tipo, non riuscirete a toccare tutte le corde giuste per sviluppare questo giocatore. Ci sono giocatori che hanno naturalmente un motore interno, Niccolomelli. cioè, una persona che ha una voglia di emergere che è enorme. Cioè, voi dovete solo accompagnare la sua voglia di emergere. Ci sono giocatori che sono talentuosi ma non gliene frega niente. E voi dite cavolo che spreco ma non gliene frega niente non perché sono cattivi perché non ce l'hanno dentro. Cioè, ho imparato a compilare delle schede sui giocatori dove quello che manca vale sempre uno, meno uno. Cioè, uno non sa andare a sinistra, meno uno. Uno non sa interagire con i compagni di squadra, non è meno cento, è anche quello meno uno. Ed è un lavoro su cui si può provare poi dopo se un giocatore non vuole diventare più bravo non c'è niente da fare. voi dovete fare tutto quello che potete per capire chi avete di fronte, per capire quali sono i suoi obiettivi perché ognuno di noi è un individuo, è uno sport di squadra, è lo sport più bello di tutti, però sono 12 teste, 15 teste e ognuno ha le sue motivazioni, i suoi pulsanti da schiacciare. Poi bisogna essere molto onesti, bisogna dire la verità, io non riesco a pensare a sviluppare un giocatore senza dirgli la verità, dirgli tu sai fare questo, sei qua, ti abbiamo preso perché hai del talento, perché non prendi uno che non sa fare niente, non serve, però devi lavorare anche su questo, allora le tue ancore sono quello che sai fare, le cose su cui devi lavorare giornalmente sono quello che ti manca, però ricordatevi che il lavoro di allenatore è molto complesso, non conosco nessuno più forte dei risultati, nessuno al mondo, allora i giocatori si migliorano individualmente d'estate e tutti i giocatori bravi che io conosco d'estate si pagano l'allenatore e il preparatore per fare un mese cinque giorni una settimana di lavoro individuale, quando avete una squadra migliorate la squadra e il giocatore col suo miglioramento migliora la squadra, voi non potete piegare gli obiettivi di una squadra a migliorare un giocatore però se volete migliorare un giocatore e non lo mettete in campo non lo migliorerete i milioni di allenamenti non bastano non bastano campioni del mondo di allenamenti ne ho visti milioni campioni del mondo sul campo non ne ho visti se non si allenano e non giocano alleno e gioco devono avere un'opportunità di giocare se no non migliorano Niccolò Melli è diventato Niccolò Melli io non ho fatto nulla di speciale ho accompagnato il suo enorme desiderio di diventare un grande giocatore un giocatore importante che decidesse le partite l'ha allenato anche Alessandro by the way e ho solamente dato l'opportunità di giocare sei bravo grazie 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 alla tua commensurabile presenza potete fare delle domande quando volete io se no vado avanti basta se no non parlo di nessun altro per Andrea Trinchieri una domanda tecnica utilizzo di un esterno in post basso per giocare in attacco puoi usare anche i formatori per tutti tre minuti avete è andato via è una parte del gioco fondamentale perché la tendenza quindi molto uso di blocchi sulla palla come è giusto che sia è che il gioco si sviluppi veramente nella perimetralità e invece è fondamentale che una squadra sappia mettere i piedi dentro l'area degli altri e i piedi dentro l'area degli altri ci si possono mettere in tanti modi attraverso situazioni di uno contro uno soprattutto dinamiche i famosi uno contro uno sui close out attraverso situazioni di taglio che adesso sono una parte fondamentale del gioco che dà l'idea di quanto un singolo giocatore una squadra sappia essere efficiente giocando lontano dalla palla e non con la palla in mano e ovviamente attraverso le situazioni di uno contro uno in post basso e diceva giustamente Andrea i grandi lunghi che sono sempre di meno e invece i grandi esterni che sono sempre di più quindi giocatori esterni che hanno una attitudine nel poter giocare vicino a canestro tutte le squadre non sono tante le squadre che hanno un lungo bravo a giocare vicino a canestro ma quasi tutte le squadre hanno almeno un esterno che è in grado di farlo Andrea ne ha uno che è superbo che è Vladimir Lucic noi nel nostro piccolo abbiamo Guido Rosselli che è assolutamente un maestro come utilizzarlo stamattina abbiamo fatto colazione insieme e giustamente lui diceva contro certi giocatori esterni vorrei stare in single coverage cioè vorrei difendere in difesa di uno contro uno per evitare che questi giocatori possano essere dei creatori del gioco di gioco la verità è che invece spesso e volentieri noi utilizziamo gli esterni proprio per questo non tanto per finire quanto per creare perché questo poi ti dà una dimensione del campo cioè ti dà la capacità di utilizzare le dimensioni del campo che non sempre riesce ad utilizzare quindi avere un giocatore che può prendere la palla con due piedi dentro l'area anche con un solo piede dentro l'area anche con tutte e due i piedi fuori dall'area ma con capacità di creare è fondamentale chiaramente la qualità che si deve sviluppare parliamo di un giocatore giovane è la qualità di essere rispettato in una situazione di uno contro uno perché se non sei rispettato in uno contro uno nessuno aiuterà e quindi la tua capacità di creare gioco non ci sarà il secondo step è allenare le qualità di passatore di questo tipo di giocatori e qua avevamo un esempio Guido adesso è andato via è andato all'allenamento è un giocatore sublime nella capacità di fare gioco per i compagni di squadra quindi ecco che la palla canestro si evolve ci sono meno lunghi meno lunghi bravi a giocare con la palla in mano vicino al canestro e magari più abili a fare altre cose tipo rollare tipo giocare negli short roll cioè le mezze dimensioni come si chiamavano una volta ecco la capacità di avere un giocatore esterno magari di due metri visto che la taglia media piano piano si sta alzando come vedete le squadre giocano con guardie 6 e 6 6 e 7 giocatori di 1 metro e 98 2 metri ecco avere giocatori che hanno quella capacità è fondamentale nell'economia dell'attacco di una squadra perché non avere gioco interno e non poter creare dall'interno verso l'esterno è un difetto che una squadra può pagare caro sono stato nei tre minuti? poi se voi volete si possono fare degli esempi pratici cioè senza se avete voglia e vi volete divertire si fa anche degli esempi scusate il livornese si può fare degli esempi pratici anche perché se no loro si addormentano quindi tanto vale chiamarli ecco vado? col microfono è che il gelato lo mangio io bene mettici un difensore vai esattamente con la testa sotto il ferro l'attaccante esattamente con la testa sotto il ferro perché se io voglio che lui prenda un vantaggio in quella zona del campo io ce lo metto sin dall'inizio e non faccio i blocchi i cross screen le madonne cioè a Livorno si dice lo stiocco lì perché lì la deve prendere e io lo schiocco lì banalizzo diciamo che giochiamo 5 contro 5 quindi un palleggiatore un esterno nell'angolo il nostro esterno di spalle a canestro e i nostri due finti lunghi in una situazione di Iverson loop chiamatela come vi pare due blocchi più o meno in corrispondenza dei gomiti dell'area quindi ho bisogno di uno di voi qua e di uno di voi qua dai aiutami vieni qua perfetto allora diciamo che io voglio i rossi sono in attacco bene diciamo che io voglio passare la palla al nostro amico che si chiama Antonio bene voglio passare la palla Antonio e faccio un movimento preparatorio molto semplice faccio in modo che questo giocatore giochi su questi due corpi in realtà sarebbe bene che la situazione fosse di questo tipo questo giocatore gioca su questi due corpi per offrire la prima linea di passaggio sapete che quando vogliamo mettere la palla dentro l'area noi cerchiamo il famoso allineamento e allora diciamo che lui potrebbe essere un giocatore che costruisce questo allineamento perché la palla magari arriva là e questo giocatore è già dentro l'area o in ogni modo se la sta giocando non vado a correggere troppo ma vi do l'idea l'allineamento è quella linea che unisce la palla al giocatore che deve ricevere al canestro e vedete che più o meno ci siamo e uno dice vabbè ma io la palla a lui non gliela faccio prende e Trinchieri ci ha già fatto saltare per aria tutto l'attacco e allora io metto in gioco lui che deve imparare che dopo aver fatto un blocco deve offrire una seconda linea di passaggio tanto per fare un esempio ed ecco che se la palla arriva là noi l'allineamento l'abbiamo esattamente ricreato dalla parte opposta ok? lo vedete? banalissimo quindi non ci sono blocchi non ci sono cross screen non ci sono cose troppo complicate e voi dite ma non è facile per lui ricevere la palla senza che ci sia un blocco per lui senza che ci sia una situazione di collaborazione complicata no è il modo più semplice per prenderla è assolutamente il modo più semplice per prenderla è chiaro che prima deve avere allenato la sua capacità di giocare senza la palla e poi dopo con la palla diciamo che lui la palla la prende se la prende lì è finita perché lui deve far canestro se non sa far canestro non lo metto lì mi sembra abbastanza ovvio diciamo che invece non la prende in quella posizione ma la prende on the block cioè sulle tacche dell'area bene creiamoli in ogni modo una situazione di spazio che sia per lui vantaggiosa alzati no no stai lì stai lì bene gli ho svuotato l'area tieni la palla in mano lotta per andarli davanti va lì davanti va lì davanti anche meno agonistico benissimo usiamo questo giocatore benissimo può essere che impauriti dalla sua capacità questo giocatore faccia questo e noi dobbiamo allenare il fatto che quello è un giocatore libero o qualunque altra rotazione cioè è una situazione banalissima grazie ragazzi non vado lungo perché è una situazione banalissima ma secondo me è il modo più efficace cioè se io voglio mettere la palla nelle mani di un giocatore esterno spalle a canestro in ogni modo dentro l'area non faccio niente devo solo creare l'opportunità ai passatori di avere delle posizioni privilegiate e a lui di utilizzare la sua capacità di giocare uno contro uno senza la palla vicino a canestro e poi uno contro uno con la palla vicino a canestro ma questo ma questo non lo dico non lo faccio perché se no siamo sopra i tre minuti allora adesso una domanda per Andrea Capobianco differenza tra allenare una squadra di club e una squadra nazionale ma sicuramente è diverso prima cosa settore giovanile alla fine l'idea mia è quella sempre di avere una parte di vera formazione anche quando alleno le nazionali quindi certamente quella parte a livello giovanile non la tralascio perché andrei contro i miei principi di diverso ci sono alcuni aspetti importanti come la poca cioè il costruire le relazioni in pochissimo tempo noi viviamo di relazioni con i giocatori con lo staff e tutto se non creiamo queste relazioni è veramente complesso da un punto di vista tecnico-tattico è normale che ho la possibilità di scegliere tra i tanti giocatori e quindi cercare appunto di avere varie situazioni vari strumenti che devo mettere in mezzo al campo che posso mettere in mezzo al campo adesso Ale parlava e Andrea si parlava dell'esterno post basso che è una situazione secondo me è uno strumento assolutamente fondamentale per la palacanestro ma non solo di oggi secondo me è sempre stato così con alcune differenze di spaziature perché prima avevamo i lunghi veri e quello che mi colpisce un po' quando vado a scegliere quando vado a cercare i giocatori è che se tutti siamo convinti di giocare di dare la possibilità all'attacco di giocare anche questo strumento cioè il post basso degli esterni guardando tante partite del settore giovanile si vedono pochissimo queste situazioni allora è normale che quando io vado siccome sono uno che crede come ha detto Alessandro crede che sia fondamentale andare dentro l'aria per creare dei vantaggi importanti e penso che questo sia uno strumento importante allora io vado alla ricerca anche di questi giocatori quello che mi viene che mi viene un pochino che mi colpisce è vedere il poco utilizzo di questi strumenti allora io dico che se noi a livello giovanile dobbiamo formare i giocatori che debbano giocare a palacanestro noi dobbiamo tenere presente la palacanestro di altissimo livello cioè l'Eurolega campionati di A1 l'NBA eccetera mi fermano l'Eurolega campionati di A1 e questo è uno strumento importante quello di andare a giocare il post basso agli esterni la domanda che io mi faccio perché non lo facciamo tanto anche a livello giovanile cioè tante volte io sento e ho fatto ultimamente un clinic sull'uno contro si parlava dei fondamentali siamo andati ad analizzare sono andato ad analizzare come si fanno gli uno contro uno ad alto livello a livello di percentuali c'era la mia follia mi sono visto tutte le partite di campionati under 20 dei campionati europei i campionati under 18 perché è normale che vedessi e poi ho visto tot partire di Eurolega di A1 e sono andato a scautizzare gli uno contro uno e ho scoperto una cosa che tante volte a livello giovanile alleniamo l'uno contro uno che non serve alla palla canestro cioè quello con tanti palleggi e tutto ed è lo stesso discorso che noi dobbiamo fare anche adesso per il caso del post basso e allora qual è la differenza? La differenza è che tante volte mi piacerebbe giocare un certo tipo di pallacanestro ma non lo posso fare perché devo perché i giocatori io li alleno poco 25 giorni 28 giorni forse 24 giorni quindi tante volte devo essere io capace di adeguarmi perciò vado in giro a vedere tante partite oppure tramite DVD e roba varia per cercare di capire veramente quello che i giocatori sanno fare e come diceva Andrea però lo modifico un po' i grandi giocatori si allenano d'estate per migliorarli i giovani noi li miglioriamo assolutamente tutti i giorni tutti i santi giorni e purtroppo io con le nazionali il pomeriggio devo allenare molto più come diceva Andrea per giocare la partita e la mattina vado sulla formazione perché è una cosa in cui credo ciecamente e quindi cerco di dargli qualche cosa anche a livello di formativo però alla fine alleno perché devo vincere i campionati europei tenete presente che i campionati europei se si sbagliano due partite si retrocedono punto cioè io nella mia esperienza dei campionati europei ho avuto la fortuna sfortuna di vedere retrocedere Grecia Croazia Serbia cioè tutte quante e noi ringraziando il signore ancora non ci capita una cosa del genere perché se no se no al centro di questo palazzetto ci sta la testa mia eh? sì infatti però quindi la differenza grossa è che nel club a livello giornale tutti i giorni posso lavorare per far diventare il giocatore un pochino più bravo a livello nazionale posso lavorare solo mezza giornata su questo perché il resto dobbiamo vincere qualche partita eh ci mancheresse grazie ricordo ricordo un clinic di qualche anno fa purtroppo perché insomma sono passati un po' di anni in cui tu parlavi proprio del prendere vantaggio vicino a Canesso dentro l'area ma non necessariamente avendo dei giocatori grandi i lunghi ma anche i piccoli e mi ricordo che citavi un giocatore un americano che aveva giocato che aveva giocato a Montegranaro quindi no questo per dire quindi questo per chiederti se confermi quella cosa che dicevi anni fa che non dobbiamo necessariamente avere dei lunghi per prendere dei vantaggi vicino a Canesso ma ci possono andare anche i giocatori di taglia più piccola perché questo a livello di settore giovanile può essere molto importante e utile allenarlo come è appena citato questa domanda grazie grazie secondo me secondo me in questo caso noi diciamo che insegniamo il gioco del post basso poi dopo andiamo a vedere vado a vedere le partite under 15 under 16 e tutti giochiamo 5 fuori con nessuno che deve prendere la palla post basso ma se il ragazzo non va a sperimentare quello che fa in allenamento durante la partita quando imparerà è logico giocare 5 fuori dopo un ribaltamento dopo diventa pure difficile andare a difendere tutto a livello under 15 e under 16 però onestamente diventiamo un po' poveri io penso che noi dobbiamo insegnare a giocare a palla a canestro e se voglio insegnare l'uno contro uno post basso non solo del lungo ma anche del piccolo cosa che logicamente di cui sono non convinto di più allora forse dobbiamo creare anche situazioni in cui si vada a prendere si vada a giocare spalle a canestro si vada a giocare dentro l'aria con tutti i giocatori questo secondo me è fondamentale e se pensiamo tante volte noi ci lamentiamo che non abbiamo lunghi a livello giovanile parla uno che ha fatto i settori giovanili anche allenando all'aperto e tutto io lunghi ne ho avuti veramente pochissimi veramente pochissimi in vita mia spalle che giocavano che potevano giocare potevano diventare pivot onestamente mandare qualche giocatore in post basso secondo me è fondamentale perché noi siamo troppo e chiudo squilibrati alleniamo molto gli spazi perimetrali alleniamo pochissimo gli spazi interni penso come diceva Alessandro siccome le vedo quasi tutte le partite di a1 a 2 Rosselito sarebbe un clinic da far vedere ai giovani giocatori su come si gioca lì dentro non solo e correggimi Ale se sbaglio quando ha la palla in mano ma quando non ce l'ha cioè quando non ce l'ha andrebbe fatto vedere ai nostri ragazzi come si costruiscono le carriere giusto scusate faccio un'aggiunta oltre al danno tecnico di non avere ragazzi giovani che magari hanno taglia e anche capacità per andare a giocare vicino al canestro e sono giocatori di perimetro c'è un danno chiamiamolo filosofico mentale cioè instilliamo l'idea che se un giocatore è un giocatore di perimetro debba solo giocare sul perimetro e loro stessi si sentono quasi sacrificati nel momento in cui devono esplorare una parte di campo diversa è una porcata perché noi abbiamo tanti buoni ragazzi che hanno questa attitudine e non deve essere un qualcosa che li fa sentire fra virgolette sacrificati ma anzi devono rendersi conto che è un pezzo del loro bagaglio tecnico fondamentale da allenare e migliorare che è un pezzo del loro bagaglio tecnico come diceva Andrea giustamente che serve a loro e potenzialmente è un punto di forza di cui la squadra può avvalersi quindi non formiamo i playmaker che se mettono i piedi dentro l'area devono sentirsi dei delinquenti cioè noi abbiamo dei giocatori bravi che quando mettono i piedi dentro l'area li chiedono il passaporto perché non ce li vedano mai e invece è una parte del gioco secondo me ma in generale credo secondo tutti noi che la palla canestro la vediamo fondamentale e poi partite anche da un presupposto prima Roberto parlava del passaggio al pivot che ieri ti ha fatto incassare ma se non sappiamo passare la palla in post basso che tu stessi ingazzato posso immaginare se non se non alleniamo un giocatore interno che giochi all'interno dell'area ma come fanno questi ragazzi a imparare il passaggio all'interno dell'area cioè quindi non è solo un danno per chi non va a giocare ma è un danno anche per quelli che giocano fuori che non hanno lo strumento passaggio all'uomo interno e se pensate a tutti i triangoli subiccherò dove nascono siccome l'argomento mi sta molto a cuore volevo partecipare anch'io perché mi hanno messo in periferia vi dico solo due cose perché io credo che qualcuno di voi oggi andrà a casa e è un po' convinto che il post basso gli può servire ok andrà sicuramente su youtube su qualsiasi e guarderà un po' di post basso non fate un errore che io ho fatto ci vuole una metodologia e bisogna avere le priorità se voi adesso installate un post basso di un esterno che ci piace e poi fate 73 accrocchi di blocchi riblocchi eh non c'è più post basso ragazzi perché adesso c'è molta la moda do la palla finto post basso e faccio tre uscite per i miei tiratori bellissimo ma quello è un dettaglio se voi muovete quattro giocatori con i giocatori in post basso lui va all'ospedale perché non riesce a vedere lo spazio perché prima cosa devi imparare a giocare uno contro uno allora vi dico non muovete i giocatori i giocatori si muovono solo contro il proprio uomo io il mio uomo aiuta gli vado nella schiena taglio ma non sette tagli contemporaneamente perché poi il giocatore in post basso viene spersonalizzato non avrà più quella furbizia quel fatto di io se ti batto lì dentro devono venire ad aiutare e poi la caccio fuori se voi guardate tutte le squadre in Europa con le regole europee che giocano in post basso per creare dei vantaggi non fanno mille accrocchi poi avranno su dieci post bassi due dove c'è una situazione speciale esce uno per tirare e poi fatevi sempre la domanda io la faccio ai miei giocatori che spaziatura preferiscono perché per esempio i miei giocatori la spaziatura che ha chiesto Ale tutti fuori non gli piacciono non gli piace per niente perché dicono i Neurolega sono molto grandi quindi mi coprono lo spazio e io non so tanto fanno una difesa che io definisco grigia non è né né aiuto né sto col mio riempono un po' gli spazi e quindi le letture sono un po' più complicate i miei giocatori esterni preferiscono sempre avere un lungo nella schiena sono scelte non dico una meglio dell'altra perché anche a me piace avere quattro fuori così appena uno aiuta boom faccio un tiro da tre punti ma se questi non aiutano presento una domanda di Giovanni Capisciotti che ieri notte ci sta Giovanni Capisciotti? ecco là sei tu il che ieri ha risposto immediatamente alla mail però adesso ti metto il campanile il che chiedeva come organizzi la fase iniziale della stagione metto il campanile pronto? pronto? via via come organizzo? osservo due anni fa dove abbiamo avuto una stagione straordinaria a un tiro dalle final four tutto quello che ho fatto nei primi 25 giorni l'ho preso e buttato nel cestino avevo sbagliato tutte le previsioni su cosa serviva la mia squadra quindi i primi 15-20 giorni osservo faccio cose generali cerco di capire cosa sono gli istinti dei miei giocatori cosa gli piace cosa non gli piace cosa posso non fare cosa devo non migliorare io chiaramente non sono la persona adatta per chiedere perché io ho solo il numero di allenamenti è scelto da altri non da me io ho un regolamento che non posso cominciare la stagione prima di 35 giorni prima della partita ufficiale io non posso fare allenamenti è una bella abitudine poi giocando sai non è poi facile mettere insieme perché io poi non mi alleno più io faccio questa settimana e poi non mi alleno più perché faccio quattro partiti da settimana da adesso fino a marzo e quindi io devo faccio molto globale e cerco di andare dietro i miei giocatori è completamente diverso da quello che facevo prima adesso veramente faccio delle cose onnivore cose che hanno tutti visto mi metto da parte l'ego da allenatore di fare le cose gli arzigogoli bellissimi perché cerco di avere un filo conduttore tecnico e tattico su cose che hanno già visto venendo da mille posti diversi però hanno già visto e quindi capisco dopo 15-20 giorni cos'è la tendenza della mia squadra sulla carta ho delle idee ma non sempre si sono così cioè una volta pensavo di avere una squadra molto difensiva quest'anno difendiamo e poi ho capito che era una squadra che difendeva si faceva canestro in attacco perché questo è il muscolo che non è un muscolo è più importante di tutti le altre cose quindi cosa fanno come pensano come vivono le situazioni sul campo Giorgio Antonetti chiede non ha detto a chi chiederlo quindi adesso gliela do ad Alessandro come ci si approccia a livello tattico con gli americani alla loro prima esperienza europea bella roba fortunatamente o sfortunatamente ne ho avuti un sacco veramente tanti ruchi che devono pagare lo scotto di alcune parti del gioco e conoscenze recentemente ho allenato meno ruchi di più all'inizio diciamo della carriera ho la sensazione che siano profondamente cambiati prima arrivavano giocatori con quattro anni solidi di college adesso meno facile che questo accada mancano tanti pezzi della parte di conoscenza cestistica intesa come non soltanto la parte tattica anche la parte tecnica lo vedete quando uno di questi giocatori che magari è un giocatore di alto livello e nel giro di tre quattro stagioni finisce in Eurolega ecco quel giocatore se non ha completato il suo percorso di studi al college di studi ovviamente il suo percorso sportivo al college lo vedi lo vedi anche se ha fatto solo tre anni lo vedi magari è un giocatore del Barcellona o è un giocatore del Bayern Monaco però è un giocatore che mostra dei bug c'è qualcosa che manca il mancato completamento del percorso cestistico al college è un qualcosa che spesso diventa non sostituibile neanche con l'apprendistato europeo perché poi sono giocatori che l'apprendistato europeo lo fanno e quindi questo mi fa pensare che ci sono aspetti del gioco che direbbe giustamente Andrea sicuramente devono essere allenati instillati anche dal punto di vista mentale quando un giocatore è molto più ricettivo e un giocatore è molto più ricettivo quando ha dai 19 ai 22 anni piuttosto che quando ne ha 25 o 26 quali sono nel dettaglio queste cose non per tutti è la stessa cosa sarebbe un generalizzare un qualcosa che secondo me non deve essere generalizzato però ecco la cosa che posso dirvi è che i giocatori che non finiscono il college quando poi vengono in Europa e giocano in squadre di alto livello perché hanno le skills per farlo vedi che gli manca qualcosa Andrea sempre Capisciotti la differenza tra allenare il settore maschile e il settore femminile ma sai secondo me io non vedo tante differenze io ho allenato nello stesso modo perché le differenze non sono tra maschile e femminile ma sono tra giocatore e giocatore tra squadra e squadra tra giocatrice e giocatrice quindi onestamente non vedo tante differenze differenze sono semplicemente che per dire non so io faccio sempre un attacco alla zona con un alle up inizio spesso per emozionare chi gioca all'attacco alla zona perché tante volte può calare mentalmente la differenza è che quando lo facevo alle squadre senior maschili la buttavo sopra il ferro per far schiacciare a livello femminile invece non la buttavo sopra il ferro però onestamente non vedo tantissime differenze perché ritengo che allenare come ha detto Alessandro è difficile è impossibile generalizzare noi alleniamo ogni giocatore che è un'unicità io e il giocatore quindi due persone già uniche creano una relazione ancora più unica quindi io non è che faccio tante tante differenze almeno questo dicevano anche le giocatrici io ho avuto la fortuna di allenare delle giocatrici qualcuna poteva spiegare la palla canestro a tanti giocatori vedi chi camacchi un genio della palla canestro un genio che capiva infatti lei si divertiva proprio veramente una giocatrice pazzesca e qualcun'altra è perché non vorrei mancare però grande differenza assolutamente l'unica cosa che ho cambiato io inizio sempre con l'attivazione mentale negli allenamenti cioè la prima cosa che faccio io non attivo il fisico perché il fisico viene comandato dal cervello allora faccio qualche cosa sempre di mentale cioè dove voglio arrivare a fine allenamento il gioco che voglio fare qualsiasi cosa con le ragazze era molto difficile perché loro partivano e partivano a 100 cioè loro erano micidiali e allora il preparatore mi disse Andrea guarda per evitare che si facciano male facciamole muore per due minuti perché queste neanche gli dici 5 contro 0 gli facendo vedere un gioco loro partono come saete e gli dici ragazze piano cioè qua dobbiamo arrivare voi già siete arrivate e non so dove come fare però onestamente ti ripeto quando super uguale cioè per dire Zandra Lasini la prima convocazione nazionale l'ha fatta con me e nazionale A ma la giocatrice che può avere degli up and down con me ha avuto tantissimi up quindi io penso che cose che ho trovato anche in tanti giovani che poi hanno esordito in Serie A in nazionale eccetera quindi onestamente non vedo le differenze non sono loro siamo noi come ci relazioniamo con loro questa è la grande differenza perché tante volte quando noi ci relazioniamo pensiamo sempre che che ne so che che dobbiamo fare un passo in meno che non dobbiamo pretendere intensità che non dobbiamo invece no loro vogliono grande intensità loro vogliono grande attenzione loro vogliono le scelte strategiche prima delle partite e onestamente non non vedo grandi differenze ci sono le differenze che si hanno con ogni singolo giocatore come diceva Andrea prima cioè il giocatore c'è chi già ne ha dentro chi non ne ha il problema più grosso è che chi non ne ha il talento il giocatore di talento la giocatrice di talento il più delle volte non esprime il talento perché ha paura perché ha paura cioè ha paura di sbagliare se noi vediamo un giocatore di talento quando sbaglia la cosa più semplice solitamente sorride sorride perché sorride perché vuole dimostrare mai cose così semplici per me sono facili quando dobbiamo fare una cosa difficile loro si sentono più al loro agio perché non hanno paura perché è una cosa difficile allenare il gioco proprio una cosa che fece una lezione proprio a tutti gli sport al CON proprio sul talento come allenare il talento quindi è tutta una relazione secondo me perché ognuno è diverso è una cosa bella di allenare secondo me c'è una domanda che io non è definita a chi però glielo faccio fare a chi ha reso questa situazione più conosciuta in Italia in Europa direi come difendere sul pick and roll situazione Bamberg facciamola da Andrea Trinchieri non si chiama né Bamberg né Spain l'ha fatto qualcun altro prima di tutti però allora penso che sia un po' meglio che ve lo faccia vedere ok mettimene 5 in attacco 5 in difesa è chiaro a tutti cos'è questo gioco no? questa situazione non è obbligatorio eh ok allora sarei un pessimo allenatore se cominciassi questa digressione su una situazione tattica parlando della situazione perché prima del gioco Bamberg c'è un pick and roll e come difendete questa situazione dipende cos'è il vostro sistema sul pick and roll perché sono cose che sono inerenti cioè sono collegate non potete fare una difesa di un certo tipo su questa situazione tattica prima di aver analizzato cos'è la vostra difesa base sul pick and roll quindi cercherò prima di parlarvi della difesa sul pick and roll e poi vi parlo della difesa su questa situazione allora bravissimo allora vi chiedo il vostro aiuto mi dite una difesa sul pick and roll che fate su questo gioco sul pick and roll questo giocatore non c'è qualcuno mi si vuole immollare scusa sono sordo da anni sotto sotto vuoi andare sotto e se questo tira ah drop drop va bene perfetto ottima scelta non scopriamo le armate teniamole lì ok tu hanno chiesto contenimento quindi tu ti metti con i piedi qui stai a casa tua ok e tu vai a fare il blocco ok allora sul contenimento il gioco Bamberg funziona molto bene perché adesso immaginatevi gli ingombri diversi no qui sono tutti alla stessa altezza però lui adesso è come una balena bianca Moby Dick è lì pronto per essere infornato sul blocco ok quindi questo blocco cieco sul pick and roll ha un'eccellente efficienza ok quindi per forza dovete coinvolgerle questo signore qui ok ricordatevi che di solito il gioco Bamberg prevede che questo giocatore sia un discreto atleta che possa prendere dei palloni sopra il ferro e qua non ti mettono uno che non vuoi lasciare libero e il tuo lavoro è vai in angolo quello non è l'angolo e lo dico sempre ai miei giocatori americani c'è differenza tra vivere a San Diego e a Tijuana ecco noi vogliamo andare in Messico questo è il Messico per poi andare a vivere bene in California perché se poi lo partono in California poi vanno ancora su e non abbiamo gli spazi giusti tornati in Messico ok allora questo giocatore può aiutare ma non può aiutare tantissimo quindi sulla difesa drop o contenimento la giusta reazione al gioco Bamberg è cambio guardia guardia e come ti chiami? Emanuele gli dici tu non ti preoccupare della palla tu metti il sedere sul blocco vai a canestro e vai con lui ok? vi è chiaro? quindi neutralizzo i vantaggi con tu prendi la palla no no tu hai fatto blocco e vai lì tu prendi la palla e tornate indietro tornate indietro tornate indietro ok piano vai a fare il blocco ok vai a blocco tu prendi la palla difendi sulla palla difendi sulla palla boom e tu prendi vai capito? vi cambiate tu prendi lui ok vi è chiaro? ok l'evoluzione del gioco però porta ricordatevi sempre che l'attacco è azione la difesa è reazione l'attacco è iniziativa la difesa è risposta all'iniziativa i tempi sono fondamentali se l'attacco legge così siete sempre a rincorrere allora cosa insegniamo noi? quando vedi questa difesa torna sul blocco per favore tu come ti chiami? Antonio quando Antonio vede questa difesa comincia a urlare cambio 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 ok quando tu come ti chiami? Antonio è la madonna è una congiura due Antoni così avete fatto appoggio quando Antonio attaccante vede che il suo difensore l'altro Antonio sarete anche cugini? no ah vabbè ok è sulla sua spalla sinistra col blocco che va a destra dice io non faccio più blocco io me ne vado sprinto come uno sesso boom e creo quelle situazioni che io definisco grigie cosa faccio? se cambio lui non arriva mai qua a togliermi il tiro ok azione e reazione ricordate poi se la cosa è lenta si può difendere su tutto va bene? allora la regola qual è? torna dentro Antonio difensore ha questa regola c'è blocco con contatto cambio non c'è blocco sto con il mio e parlo a lungo che deve difendere il pick and roll quindi sparisci Antonio attaccante sparisci adesso Emanuele tu vai con lui non devi più cambiare la tua responsabilità è Antonio ok e adesso voi qua la nostra difesa base scegliete chi aiuta aiuta l'ultimo aiuta il primo la madonna sono scelte tattiche ok ci siete però se avete delle domande io cioè sono pronto qualsiasi cosa volete un'altra difesa su pick and roll perché la difesa poi sul blocco bumper è diversa ne avete un'altra cambio vi volevo lì bravi allora cambio con lungo vero giusto ok adesso Emanuele prendi la palla tu come ti chiami Antonio? abbiamo un Simone grandissimo Simone prende il lungo vai boom boom cambio bravo Emanuele adesso qui cosa facciamo? cosa facciamo Antonio? guarda guarda un po' bravissimo qui cosa facciamo? facciamo quello che qualcuno chiama minimize che è minimizzare i mismatch qualcuno chiama triple switch chiamatelo come volete ok cerchiamo di proteggere i corpi piccoli mettendo quelli più fisici a marcare il lungo e quelli più gracilini su ogni tre punti ok quindi qua Antonio va fa la cavalleria con Simone e tu prendi l'altro Antonio non mi fare quell'uscita lì che quella è una lettura vieni di qua eh furbacchione ha fatto una cosa molto furba che adesso vi farò vedere ok capite che adesso non è dramma no? abbiamo dei mismatch ma sono meno drammatici per favore palleggia Simone Marco Antonio tu vai a fare il blocco cieco cambiate le posizioni vieni qua tu sei il playmaker ok adesso col cambio come la facciamo? fate il cambio no scusa Emanuele torna su di lui siamo all'inizio dell'azione loro hanno cambiato il personale cosa? l'allenatore e l'altro furbacchione cambiano cosa faccio? io metto per favore stai lì no no ok Simone marca lì bravo perfetto oh grazie adesso cosa dico? io gli metto il corpo più piccolo su blocco cieco no? è come giocare a scacchi ragazzi cioè io cerco di mettere in difficoltà la difesa fai la stessa difesa boom cambia fai blocco cieco cosa fai tu Simone adesso? dimmi cosa lì cosa vuol dire? cosa vuol dire la mano lì? cambi o non cambi? eh? se state con la regola di prima non è furbo giusto? esponete Simone che è il più piccolo magari è il più tosto io non lo so però è il più piccolo a questo punto blocco tra due guardie in difesa non cambiate perché la regola cos'è? il corpo più grande sta dentro quindi non cambi tu Antonio tieni il lungo vieni di qua ok? vi è chiaro? ci sono altre domande? un'altra difesa? vi direi che abbiamo coperte quasi tutte tranne raddoppio raro ma esiste fate raddoppio tornate con i ruoli originali per favore Simo torna sulla palla ok Emanuele tu raddoppi la palla boom vai raddoppiate la palla adesso è un concetto diverso gli spazi sono diversi l'utilizzo del personale è diverso allora tu mi stai bello lì tu dove vai? ecco una volta che devo andare dall'altra parte allora se l'attacco è furbo ve lo manda di là siete morti è tre contro due quattro contro tre o due contro uno ok? però si chiama scomporre il gioco bamberg in visione della palla ok? adesso Antonio tu giochi a zona nel senso che non sai chi prenderai perché deve coprire le spalle ad Emanuele che sta sulla palla quindi non è più il cambio di prima ok? va bene grazie grazie ragazzi a tutti pic e roll croce o dirizia Andrea tre parole sole cuore e amore normale percorso formativo è uno strumento da utilizzare non da abusare da utilizzare semplice come secondo me questo gioco qui fine settore giovanile i nostri giocatori lo devono saper fare tutta la vita perché ho fatto i blocchi ho fatto il pic e roll li devo mettere insieme è proprio dove dovremo arrivare se uno ha un'idea di programmazione giovanile secondo la mia visione è normale che poi se diventa abuso per me è sbagliato giocate domani una partita importante contro una squadra super aggressiva vi stanno nelle mutande come giocate la partita? vi viene un'idea? andate spalla canestro anche col fisioterapista io non ho mai visto una squadra pressare con la spalla canestro per esempio non si può perché la spalla canestro richiede che tutta la difesa sia schiacciata verso la palla per esempio parto da questo per dirvi dobbiamo sapere usare pic e roll dobbiamo sapere andare spalla canestro dobbiamo sapere usare gli uno contro uno dei close out dobbiamo sapere le uscite la pallacanestro è varia dovete scegliere il vestito che mettete in funzione dei giocatori che avete però fare solo pic e roll poi siete stucchevoli e prevedibili più sale il livello secondo me e più bisogna solo parlare in merito di pic e roll cosa succede quando la palla esce dal pic e roll come vogliamo giocare quando la palla esce dalle mani del piccolo perché quella è la cosa più difficile convincere una squadra da giocare 5 contro 5 partendo da una situazione di 2 contro 2 che è la cosa più complessa allora io vado uso dei numeri che sono abbastanza vicini alla realtà ma non sono precisi prendiamo un qualunque campionato di alto livello internazionale diciamo il campionato italiano ci sono tre grandi fonti di creazione del gioco pic e roll including passing c'è scritto su synergy cioè quello che nasce da una situazione di pic e roll post up including passing cioè quello che nasce da una situazione di post bus isolation including passing quello che nasce dalle situazioni di uno contro uno comprese le situazioni di passaggio queste sono le tre grandi categorie aggiungiamoci la transizione che è un'altra grande categoria i numeri dicono che da pic e roll nascono 35 punti a partita che dal post bus nascono 10 punti a partita che dall'isolamento nascono 6 7 punti a partita che dalla transizione una squadra di buon livello produce circa 15 punti a partita meno ma diciamo 15 capite bene che la produzione di punti non il gioco di pic e roll ma la produzione di punti da un blocco sulla palla è sicuramente dal punto di vista percentuale la parte più corposa dell'attacco di una squadra e questo non per abuso ma perché è così quindi non curare quello che adesso diceva Andrea la capacità di creare gioco da una situazione di blocco sulla palla sarebbe uno stupido impoverimento per una squadra il ruolo dell'assistente allora ho un grande cruccio non ho fatto abbastanza l'assistente e questo è un mio grande cruccio ho avuto la fortuna di farlo a grandi allenatori grandissimi allenatori ma per troppo poco tempo e questo secondo me è un qualcosa che ha limitato e tuttora limita magari il mio sicuramente il mio background e poi anche anche il bagaglio di conoscenze perché lavorare con allenatori allenatori bravi ti fa diventare un allenatore migliore questo a me è mancato ma non perché non ne ho avuti di bravi ma perché ne ho avuti troppo pochi e quando avrei potuto scegliere di farlo a allenatori bravi non l'ho fatto e è stato un errore quindi questo vi dà l'idea di quanto abbia rispetto considerazione stima del lavoro di staff cioè è fondamentale poi è chiaro che all'interno di ogni staff ci sono delle dinamiche è inutile raccontare il ruolo del video coordinator il ruolo del primo assistente il ruolo del secondo assistente il ruolo del players development coach adesso come vedete gli staff diventano sempre più grandi la specializzazione diventa sempre più specifica questo è avvantaggio dei giocatori avvantaggio di conseguenza e di riflesso per le squadre però ecco credo che quello che vi ho detto all'inizio vi fa capire quanto sia importante e quanto io riconosca come fondamentale la presenza e l'efficienza di uno staff ci sono tre macro posizioni all'interno di uno staff secondo me che il capo allenatore l'assistente gli assistenti e il player development molti giovani attori mi chiedono ma cosa devo fare qual è la strada come posso riuscire e ognuno ha una strada sarà fatalista però ce l'ha dentro di lui e deve capirla lui non posso essere io o una persona con esperienza a dire cosa fare sono Alessandro ha detto c'è la specializzazione spinta e che secondo me è un bene e ormai noi siamo stati i primi a BAM a avere il player development in Europa ed è un ruolo fondamentale perché io come capo allenatore io sono uno spaccamaroni cioè io sono veramente pesante e avere un un componente dello staff che può sussurrare ai cavalli che può capire i giocatori perché un giocatore non dirà mai al capo allenatore coach a me questo non riesce non riesco a fare non lo dirà mai perché perché voi alla fine siete il supremo giudice dell'unica cosa che conta quanto lui gioca e lui nella sua testa giusto o sbagliato che non entro in merito penserà se io gli dico che a sinistra non mi viene bene il pick and roll che quando faccio un errore poi ne faccio subito un altro come mi giudicherà magari mi farà giocare meno quindi ci vuole una persona trasversale ok che è allenatore ma non è allenatore che è allenatore e parla col capo allenatore perché la prossima partita mi mandano sul fondo quindi devo allenare i fondamentali per attaccare fondo sul pick and roll però non giudicherà e non deciderà quanto questo giocatore è importante in questa partita è importante nella chimica di squadra quindi è un ruolo che secondo me prende sempre più piede ed è fondamentale al mio livello con 90 partite io non posso farne a meno secondo l'altra posizione l'assistente per me è fondamentale allo stesso modo con peculiarità differenti del player development coach io richiedo persone mentalmente indipendenti che abbiano la loro idea su tutto che possono tenermi testa e dire no io così non lo farei la decisione finale è mia ma io voglio un contraddittorio perché sono un essere umano con i miei nervosismi le mie paure le mie sicurezze sono bravo in certe cose devo migliorare in altre cose come i giocatori noi non siamo super uomini non siamo al di sopra dei problemi della vita di ogni giorno a volte non abbiamo la possibilità di andare in campo e sfogarci fisicamente quindi è tutto un macerarsi dentro consumarsi è un lavoro complesso bellissimo ma complesso quindi c'è bisogno di avere accanto persone con energia perché a volte vi capita che vi cade la catena e se cade la catena anche gli assistenti siete morti ok persone che abbiano sappiano conoscono la pallacanestro e abbiano la capacità e la personalità di dirvi le cose sono ruoli fondamentali io parto dalla parte finale di Andrea perché secondo me quello è il succo di tutto c'è uno che sappia tenere testa al capo allenatore assolutamente nel senso che abbia sia uno libero mentalmente assolutamente non deve essere un signor sì è una cosa secondo me veramente allucinante quando il mio assistente sta sempre lì a dirmi sì e deve essere un grande equilibratore nel senso che lui tante volte può vivere di più il giocatore può vivere di più anche lo sfogo del giocatore e non è che deve venire lì a riportare quello è il pettevolezza quello è essere poveri invece un grande equilibratore che riesca a capire veramente le problematiche debba essere uno che propone le risoluzioni quelli che dicono sempre questo non va bene questo non va bene questo non va bene d'accordo ma dammi anche una spiegazione che poi non è che la responsabilità è la tua la responsabilità sarà la mia se dico ok o non ok quindi assolutamente deve essere un equilibratore io credo molto nella figura dell'assistente colui col quale io lo definisco un adulto una persona matura matura significa che abbia grande senso del dovere e grande senso del piacere quando uno ha un assistente che ha solo senso del piacere cioè come come bambini penso che facilmente potrà andare incontro a grande problematiche così può andare incontro a grandi problematiche se ha solo il senso del dovere perché fa una cosa perché la deve fare punto invece io penso che assolutamente debba essere una persona matura che sappia riportare problemi sappia dare delle spiegazioni portare anche la risoluzione secondo il suo modo di vedere e abbia grande capacità di prendersi cura prendersi cura dei giocatori e prendersi cura dei nuovi allenatori quando come diceva Andrea una grandissima cosa quando noi abbiamo le nostre debolezze in certi momenti vengono fuori quello è il momento più importante in cui l'assistente sta là vicino a me vedere l'assistente che parla quando vinciamo sempre e si alza e dice è facile poi quando andiamo sotto di 15-20 lo vediamo seduto che sta peggio dell'allenatore forse quello c'è da riflettere un attimo faccio un'aggiunta perché mi è venuto in mente cosa dicono io voglio sempre avere capo allenatori nello staff come assistenti e un mio assistente ha detto coach tu sai e ha fatto il capo allenatore ha vinto titoli ha fatto sai qual è la differenza tra capo allenatore e assistente io ci penso ci penso ci penso non mi viene in mente e lui fa l'assistente dopo la partita dorme ed è una grandissima verità non va a correre non va a correre qualcuno ha chiesto visto che Andrea ha analizzato il pick and roll statico una situazione di pick and roll dinamico da uscita di blocchi di pick and roll che arriva dinamico faccio io dammi cinque cinque ragazzi erano anche i difensori Antonio tanto un Antonio c'è togli quella pola là che le gambe dei giocatori sono più importanti delle nostre allora mettiamo quattro giocatori sul perimetro un bloccante sulla linea del tiro libero un palleggiatore questa è una situazione chiamiamola statica ci può consentire dal punto di vista difensivo di prendere delle decisioni anche delle decisioni estreme per certi versi quindi magari giocare contro una sua eventuale debolezza nell'uso di una mano piuttosto che dell'altra mano nel decidere di indirizzare il palleggiatore in una direzione piuttosto che in un'altra favorendo il lato di aiuto per esempio preferendo avere due giocatori sul lato di aiuto anziché uno solo il double o single tag come viene chiamato ecco quando c'è una situazione dinamica tutto questo viene a cadere e allora facciamo un paio di esempi banali partiamo da una situazione conosciutissima per esempio di un blocco verticale con il palleggiatore che si sposta da questa parte e tu che ti prepari a bloccare quel giocatore tu vai a giocare ai margini dell'area tu vai a giocare ai margini dell'area usi il suo blocco per ricevere la palla sul perimetro quello che si chiama zipper questa è una situazione dinamica che consente a lui di prendere la palla in una situazione dinamica e dà a questo giocatore il tempo di eseguire una situazione di blocco sulla palla dinamico molto diverso rispetto a quello che abbiamo visto prima perché la difesa tutte le belle cose a cui abbiamo fatto riferimento prima nella situazione statica cioè per esempio scegliere la mano forte del palleggiatore per esempio scegliere la mano debole del palleggiatore per esempio scegliere il lato di aiuto con due giocatori piuttosto che uno non lo può fare più ritorniamo dall'inizio allora esattamente come succede in tutte le collaborazioni della palla canestro facciamo l'esempio passare la palla dentro l'area per passare la palla dentro l'area ci vuole qualcuno che passa la palla se io sono bravo a togliere l'allineamento quindi a essere molto aggressivo sul giocatore che dovrà passare la palla a togliere la posizione di vantaggio dell'attaccante che deve ricevere la palla spalla a canestro ecco che questo passaggio diventa complicato quindi io devo lavorare prima per essere efficace dopo la stessa cosa nasce qua cioè se io sono bravo e possiamo fare qualunque tipo di scelta ne prendiamo una gioca questa situazione di blocco prova a passare con lui spingendolo verso l'interno del campo e appena oltrepassi la linea di blocco prova a infilarti con il tuo braccio destro per fare in modo che questo giocatore allontani il più possibile la ricezione diciamo che la palla la prenderà in questa posizione del campo ecco che io ho lavorato prima per fare in modo che questo blocco sulla palla possa essere efficace dopo cosa potrebbe fare questo giocatore magari anziché lasciare che lui blocchi esattamente dove vuole esattamente quando vuole può fare un lavoro di opposizione per esempio negando la possibilità di andare a bloccare correndo e magari tenendo una costante pressione su questo su questo bloccante e magari portandolo a bloccare la palla qua vieni cosa è cambiato è cambiato il tempo e lo spazio per gli attaccanti e allora questa situazione dinamica consente a me di fare delle scelte che possono essere di varia natura in questo caso un blocco così lontano dall'area in una situazione di questo tipo mi potrebbe consentire di disinnescare la prima opzione perché magari io sono in grado mantieni il contatto su di lui sono in grado di passare per quarto e probabilmente un tiro da tre punti da qua non è una cosa semplice da fare tranne che per alcuni giocatori e magari obbligo l'attacco a giocare una seconda opzione ecco che una situazione di difesa pick and roll dinamico significa provare ho fatto un esempio banale se ne possono fare mille provare a fare in modo che l'attacco non usi i tempi e gli spazi di gioco esattamente nelle modalità in cui vorrebbe utilizzarli quindi se per l'attacco può essere un vantaggio creare una situazione dinamica per la difesa il vantaggio deve essere provare a fare in modo che gli spazi e i tempi che l'attacco utilizzerà non sono quelli che l'attacco vorrebbe utilizzare cosa che nel pick and roll statico è meno facile da fare ho cercato di stare molto stretto ma giusto per far passare il concetto grazie ragazzi la faccio ad Andrea siccome è stato si è parlato tanto di queste situazioni di pick and roll ma questi sono ragazzi e la domanda è che molto spesso mi hanno fatto anche a terra con il settore giovanile quali situazioni formative o esercizi utilizzeresti per gruppi under 15 e under 17 per portarli a vivere una situazione di pick and roll in maniera più fluida arrivandoci dall'uno contro uno con e senza palla scusa è normale che under 15 nella mia visione di programmazione è difficile trovare una squadra che possa giocare situazione di pick and roll tante volte mi viene detto sì ma abbiamo visto squadre all'estero che giocano i pick and roll a 15 anni a 16 anni sì ma il contesto è diverso quindi secondo me quando andiamo a programmare Andrea diceva la prima parte è l'osservazione ad altissimo livello anche per noi osservazione oggi come oggi abbiamo difficoltà di far correre i ragazzi quindi immaginiamo a giocare un pick and roll a 15 anni allora le situazioni io vado molto la prima cosa che faccio il pick and roll alla fine deve diventare una situazione di 2 contro 1 perché devo innescare qualche aiuto se non c'è il 2 contro 1 se non si crea questo 2 contro 1 questo vantaggio del 2 contro 1 assolutamente io non non posso un domani giocare la situazione prima di blocco e tutto allora faccio tutte situazioni di 2 contro 1 più uno che recupera subito immediatamente cioè li metto quegli esercizi con le mani dell'allenatore in base ai giocatori a tante di queste situazioni una volta che i ragazzi hanno appreso il 2 contro 1 negli spazi non negli spazi stretti e tutto negli spazi giusti del pick and roll allora iniziò quando ho parlato di blocchi siccome se avete visto una cosa che mi è piaciuta molto nella spiegazione di Andrea della difesa sul Bamberg è che lui non andava sulle casistiche lui ha spiegato i concetti cioè lui ha detto il fisico grosso prende il giocatore che va dentro ha detto qui così qui così perché i giocatori non sono dei computer che schiacci un po' lo sbaglio Andrea cioè il concetto è chiaro chi è il fisico d'ingombro sta là dentro punto con chi giochi quindi molto sui concetti è la stessa cosa nell'insegnamento il pick and roll andare sui concetti il primo concetto è creare una situazione di due contro uno il secondo concetto se già hanno una conoscono bene l'uno contro uno con e senza palla con e senza palla perché se non c'è l'uno contro uno difficilmente diventa funzionare il pick and roll difficilmente perché chi viene a giocare il blocco il bloccante se il difensore già si prepara a fare uno show a fare un contenimento deve davidargli avanti deve slippare il blocco cioè è normale quindi partendo dalla situazione di lettura degli spazi due contro uno più uno che recupera iniziando a mettere i primi contatti i primi contatti piano piano vado avanti senza assolutamente dimenticare l'uno contro uno del giocatore che ha la palla e l'uno contro uno del giocatore che non ha la palla una volta che è stato fatto il pick cioè il gioco a due allora inizio un attimino a far capire anche i triangoli perché noi adesso è un po' come l'uno contro uno l'extrapesso quello che ci manda ci raggiungiamo quasi l'orgasmo una volta il nostro giocatore fa l'extrapesso poi uno si riguarda la partita e dice ma perché ha fatto l'extrapesso è stata solo cioè sono quelle cose noi siamo fissati su certe cose così anche nel pick and roll siamo fissati nel giocare le sponde tante volte basterebbe passare la palla diretta al bloccante la sponda si usa perché il bloccante è marcato c'è una conseguenza del bloccante marcato e allora è normale che io devo avere equilibrio tra questo ma io devo dare la capacità al giocatore di saper decidere quando passare le sponde e quando passare la palla diretta e quando finire e quando fare una rispettiva è tutto quindi io partirei da situazione di due contro uno più uno che recupera poi inizierei a mettere contatti poi inizierei a giocare sempre due contro due in modo molto dinamico e poi inizierei a giocare di sponde come ultima come no come ultima come situazione che viene di conseguenza secondo me sai tante volte noi parliamo il passaggio consegnato infatti infatti mi sono fatto una domanda prima come hai fatto a capire passo dietro dal contenimento se non ci sta una lettera che sta in comune allora il passaggio consegnato sì cioè secondo me il dai vai dai cambia dai segui per me esistono ancora perché l'hand off è il passaggio è la fuoriuscita della palla dalle mani ma il giocatore che viene fa un dai segui cioè anche nel 2023 secondo me è ancora dai segui poi chiamiamola come lo chiamo è un dai segui io qua proprio ho allenato Drake Diner che era un genio della palacanestro Drake che faceva se lo faccio vedere forse è meglio più facile eh quattro ragazzi un attimo al piacere allora vieni 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 qua vieni qua uno la palla qui un lungo che gioca sul gomito allora che cosa succede che cosa faceva Drake che è veramente un genio della palacanestro attacca sul fondo no no scusa sul gomito sul gomito attacca il fondo bom chiudilo 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 bene bene stop stai staccato un pochino allora passo la palla se questo giocatore qui è uno che tira è uno che tira stai anche un pochino più su per piacere saltali addosso quindi lui ha vantaggio qui di fare un taglio avanti tagliava avanti prendeva la palla e segnava ritorna dietro a un certo punto avevamo un lungo che stava qua se lo ricorda che non faceva tanto canestro a questa posizione allora lo difendevano qui allora se io difendo qui e lui non è un tiratore non è che chi è libero tira il tiro bisogna segnare quindi se non segno non è un buon tiro allora lui che faceva lui attaccava attaccava con la palla lo ha chiuso fermi lo ha chiuso lo ha chiuso ha passato la palla e lui andava a prendersi la palla vai 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 e giocava a question off di lettura li faceva cioè ritorna un attimo dietro palleggio difendi su di me un attimo palleggio bom mi chiudi mi chiudi passo la palla c'è spazio davanti giocava semplice dai vai non c'è spazio perché quel giocatore sta staccato allora andava a correre e giocare dai segui queste cose qua secondo me a livello giovanile vanno fatte cioè quando io vado a insegnare le collaborazioni dai vai dai cambia dai segui che sono le seconde la collaborazione la palleggio esiste sempre anche quando si gioca uno contro uno perché le spazzature è collaborazione che nel mini basket è capace di rendimento nel momento in cui ho fatto queste collaborazioni i giocatori che giocano nelle spazzature nei tagli e tutto inizio a mettere dai vai dai cambia dai segui che in pratica è una continuità e il dai segui esiste assolutamente non so se ti ho risposto quindi per me va insegnato e mi ha insegnato bene perché poi ce lo troviamo dopo come diciamo prerequisito dei pick and roll gestione del precampionato nelle amichevoli priorità esperimenti di situazioni quintetti rotazioni allungate o allenare per vincere Strinchiari ha già risposto ha già detto tutto quindi non ha detto tutto voglio problemi voglio giocatori che hanno problemi voglio averli in precampionato non li voglio avere durante il campionato voglio che la gente deragli voglio che i ruchi capiscano che non è facile ogni volta che prendete un americano che viene di qua pensa che noi abbiamo l'anello al naso è più forte di loro cioè non è allora che vadano che sbattano che non capiscono come si fischia che la gente gli abusi fisicamente io precampionato ho perso tutte le partite tranne quella di ieri scusate ho vinto con Trento e ho perso tutte le partite tutte perché prima di tutto non mi interessa perché sono cosa vuol dire vincere la partita di precampionato cosa vuol dire devo far giocare i miei migliori giocatori 30 minuti per dire che ho vinto in precampionato come a borro quando mi dicono facciamo scrimmage no amichevole cioè azzeriamo il punteggio ogni quarto perché così il presidente non si incazza se perdo poi c'è sempre quello che fa la somma aritmetica e dopo leggi 91 a 66 ma abbiamo azzerato ogni quarto ma che roba è ragazzi se avete pure il precampionato cambiate lavoro precampionato problemi fatica confronti incazzature cioè affrontiamo il precampionato è fatto per capire di che pasta siamo fatti e di vedere come reagisce le persone alle difficoltà fai 10-0 nel precampionato prima partita del precampionato la perdi sempre perché assolutamente il senso di urgenza evapora prima di tutto non ce l'abbiamo naturale seconda cosa evapora allora io voglio minuti 20 minuti i giovani devono giocare devono stare in campo devono fare le loro cazzate il mio obiettivo è arrivare alla prima partita di campionato dove la gente sa che sarà cambiata o perché è stanca o perché non è efficiente per la squadra a me vedere un mio giocatore che si chiede io vuol dire che non ci siamo allenati insieme i giocatori devono sapere perché automaticamente perché vanno in panchina è andato tutto vogliamo farvi riposare per avervi freschi e non siete efficienti per la squadra in quel momento che vuol dire lui ha detto oppure hai fatto ahare in Livornese e io dico non siete efficienti perché ormai non è politically correct vuoi fare tu o Andrea? no una sola cosa una riflessione più che una risposta 20 minuti per tutti sono giusti anche nelle squadre che non possono ruotare a 10 giocatori a tutto il senso del mondo la domanda che faccio e che mi faccio è che è importante anche allenare le partite dove ci sono quelli che giocano 30 perché domani dovranno giocare 30 e dove quelli che giocano 10 domani dovranno giocare 10 quindi ogni tanto il precampionato ti porta a appiattire rendere rendere tutto più cioè che tutti non che tutti sono uguali ma che tutti giocano 20 18 22 e invece secondo me ci sono momenti del precampionato dove quelli che dovranno giocare 30 devono giocare 30 anche in precampionato perché lo sforzo fisico che gli si richiederà sarà quello dei 30 minuti e perché quello che dovrà giocare 10 o che parte con la possibilità di giocare 10 minuti deve sapere che quello è lo spazio iniziale quindi cambiare troppo la verità a volte non fa bene e il precampionato a volte si espone a questo tipo di rischi cioè che standardizzi sono tutti bravi oppure nessuno è bravo e nessuno esce e tutti giocano 20 minuti non è una buona cosa soprattutto nella parte finale del precampionato bisogna cominciare a mettere delle gerarchie che sono un pochino più le gerarchie che almeno all'inizio ti troverai a dover utilizzare questa è una riflessione più che una risposta semplicemente è come ci metto insieme precampionato significa prima del campionato io devo arrivare pronto al campionato e devo avere devo dare l'equilibrio chiari alla squadra quindi condivido assolutamente se un giocatore deve giocare se un giocatore il giocatore gioca un minuto due minuti non c'è problema perché dipende anche dai contratti che faccio io con i giocatori che io li chiamo contratti cioè che gli spiego che cosa faranno nella mia squadra io non voglio creare confusione secondo me nella confusione le squadre non crescono le squadre crescono nella chiarezza chiarezza dei ruoli chiarezza di quello che dobbiamo fare secondo me si cresce nella chiarezza non nella confusione e le amichevole mi servono appunto come diceva per avere dei problemi e poi lavorarci sopra assolutamente è una cosa che io non una cosa dove non voglio avere problemi amichevole non amichevole una cosa è certa il giocatore deve giocare al 100% cioè per me la mentalità vincente non è una cosa che si compra e non è una cosa che si forma dice vabbè ragazzi da oggi pensiamo a vincere da oggi facciamo al 100% no 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 ogni allenamento ogni momento una cosa su cui io sono intollerante è quando loro non danno il 100% che non vuol dire che non sbagliano mai non è il concetto non sbagliare mai quello in tutte le amichevoli lo voglio e lo pretendo perché si gioca si gioca punto e si gioca con la mentalità per vincere per vincere non significa il punteggio che sta al tabellone significa come io gioco quell'azione come faccio quel cambio di direzione questo per me e su questo sono in transigente e poi logicamente come stavo detto prima a me servono le amichevoli per capire su cosa lavorare per me è una verifica verifica analisi le partite di precampionato verifico quello che sta succedendo analizzo per cercare di programmare gli allenamenti successivi scusate un'altra considerazione sempre sul precampionato quante volte ci capita di giocare due partite in due giorni che non sia una squadra nazionale mai mai in realtà noi spesso utilizziamo il precampionato giocando due partite in due giorni per comodità perché è comodo è bellissimo venire a Teramo giocare stare qua insieme giocare due partite competitive in due giorni la verità è che le nostre squadre non sono pronte a giocare due partite in due giorni con il minutaggio che noi richiederemmo e con l'impegno fisico con l'attenzione e la concentrazione che una squadra dovrebbe avere e allora perché lo facciamo lo facciamo perché è più comodo ma la domanda è è la cosa giusta la risposta la risposta secondo me è no andiamo a livello di settore giovanile che tante volte ad esempio i finali nazionali sono tutti i giorni invece a livello giovanile spesso e volentieri se giochiamo se giochiamo non solo se giochiamo la domenica il lunedì i poverini sono stanchi quindi li lasciamo a casa ma perché sono problematiche mie che io trovo il nazionale il nazionale è un massacro far capire che il giorno dopo e non è un problema fisico è un problema mentale finita la partita risetta perché domani ieri abbiamo giocato giocando lento lenti perché gli altri sono molto rapidi oggi vogliamo giocare correndo a 100 all'ora perché uno può anche cambiare pelle che non vuol dire non avere identità l'identità è la capacità di saper cambiare pelle e tante volte ho trovato difficoltà su questo difficoltà se pensiamo che in partita un giocatore li devo saltare addosso ho sempre quando parlo io c'era con me però ho capito però se posso pure staccare se non sbaglio a tempi d'oggi sto staccare su un giocatore li devo saltare addosso perché è un tiratore su un altro forse è più penetratore saper leggere queste situazioni vuol dire essere pronti mentalmente saper cambiare vestito una partita all'altra vuol dire essere pronti mentalmente e non è come dicevo prima è frutto dell'allenamento è frutto dell'allenamento il giorno dopo che facciamo una partita a livello giovanile alleniamo non è che muoiono secondo me le scelte di tiro dei giocatori in campo dal settore giovanile alla prima squadra la scelta di tiro una volta andava di moda molto il dire se sei libero tira poi io facevo sempre queste domande vi parlo vent'anni fa davo la partita chi insisteva se sei libero tira davo la palla accendo campo a un giocatore dicevo tira e tu allenatore non ti incazzare è libero se sei libero e puoi far canestro tira il puoi far canestro che significa 18 anni vuol dire una percentuale 13 anni vuol dire un'altra percentuale se a 13 anni il mio giocatore fa 3 su 10 deve tirare 4 su 10 deve tirare se fa 0 su 10 deve allenarsi al tiro guardate questo è il concetto di consapevolezza di ciò che si sa fare consapevolezza è ciò che si sa fare questo è il primo aspetto a livello giovanile cioè a me fanno morire i giocatori racconto questo un attimo mondiale primo mondiale fatto l'Italia dopo 20 anni a un certo punto un giocatore prima azione prende la palla tira la palla va via seconda azione prende la palla ferro va via la terza azione ferro va via e io là che mi toccavo perché mi davo pizzichi per non averlo cambiato prima lo cambio lui mi guarda e mi dice ero libero io rispondo e fate una domanda cioè quindi cioè ma so fatti che sono successo non è che vi racconto e perciò vi dico cioè come noi facciamo su quello dovevano essere più aggressivi su quell'altro un po' meno anche gli avversari lo fanno questo che cosa voglio dire che uno i giocatori devono essere credibili al tiro quando escono al settore giovanile il giocatore libero deve segnare perdiamo meno tempo a fare schemi e contro schemi devono segnare punto ve lo dice uno che non è arrivato ai mondiali quest'anno perché abbiamo fatto 10 su 25 tiri liberi 10 che ha visto le partite dei 10 su 25 a un certo punto questa viene tagliata logicamente a un certo punto io speravo che non ci facessero fallo hai detto anche rinuncio grazie all'arbitro e l'arbitro ha detto no ma questo era un po' di anni fa 10 escono al settore giovanile e devono far canestro punto punto è l'unico modo di allenarsi mentalmente tecnicamente e fisicamente domanda complessa veramente cosa vuol dire allenare? vuol dire trasmettere valori e abitudini al di là di qualsiasi altra cosa valori è una parola grossa che è difficile e i tempi non i tempi della società moderna non aiutano io ho due figli cerco di instillare dei valori faccio una fatica ragazzi pazzesca questo è il cappello ho avuto la fortuna di allenare il partizan belgrado e avevo accesso al gota della palacanestro mondiale vado a cena con Sasha Danilovic non ho mai visto un giocatore dominare le partite mentalmente come faceva lui confermi Ale era il dominio avevano paura di giocare contro di lui paura e io gli chiedo ma come facevi qual era il segreto mi ha dato una risposta che mi ha da un punto di vista mi ha aperto gli occhi dall'altro mi ha devastato sai io non è che facevo molto complesso non facevo canestro facevo mille canestri al giorno giocavo da bambino mi menavano i vecchi andavo in salapesi ero stanco dopo il secondo tempo andavo a correre nei boschi ma dico mi sta pigliando un po' gulo no è proprio vero è semplice quindi mi attacco a quello che diceva Andrea e aggiungo un'altra esperienza di vita quattro anni fa sono andato mi hanno invitato i boston celtics a fare un po' di think tank un po' di brainstorming e mi hanno dato accesso a tutto spogliatoi durante le partite allenamenti tutto brett stevens che non mi sembra uno non capace anzi non gli ho mai sentito parlare di scelte di tiro mai una volta in diciotto giorni e quattro partite relativi allenamenti è molto è una zona molto sensibile perché i giocatori oggi se tu dici guarda che c'era un passaggio in più cosa pensano? eh non vuoi che io tiro? eh non ti fidi di me la prossima volta tira e sbaglia è matematico allora manteniamola un po' semplice il video non mente se potete farlo però io dico vuoi tirare sei libero il valore te lo devi guadagnare come? sei un bimbo? mille canestre ogni giorno sei un giocatore che gioca dei minuti quindi a meno diciamo devi economizzare un po' il fisico sono 500 sei un veterano devi fare quattro volte dieci su dieci a tre punti per andare a casa e modulare una richiesta per avere lo stesso risultato cioè vogliamo tirare da libere bellissima però la palacanese non è una democrazia oggi sono le elezioni è pericoloso dirlo ma non è una democrazia non sono tutti uguali i giocatori perché se sono tutti uguali perdiamo le partite però scelte di tiro è una zona molto sensibile cominciamo col guadagnarci la possibilità di tirare da liberi che vuol dire fare paniere quando non c'è la partita perché se voi volete fare delle correzioni o allenare un giocatore quando ha le pulsazioni a 180 ciao Peppa durante la partita voi non è che facciamo grandi magheggi accompagniamo i nostri giocatori e cerchiamo di di aiutarli l'allenamento però le pulsazioni non sono 180 non c'è lo stress non c'è la pressione ti devi guadagnare quel tiro lì allora anziché una risposta individuale vi do una risposta di squadra così magari lo stesso tipo di di richiesta la indirizziamo verso la squadra un possesso è fatto di 24 secondi secondo me ci sono 15 secondi sensibili e sono quelli nelle quali una squadra dovrebbe costruire un tiro i primi 7 secondi e gli ultimi 8 secondi quindi secondo me un buon tiro per una squadra chiaramente con tutte le eccezioni del caso sono i tiri costruiti nei primi 7 secondi o negli ultimi 8 secondi di un possesso un'altra cosa che secondo me noi dobbiamo fare è allenare i momenti della partita perché la selezione di tiro sotto di 10 con 3 minuti da giocare è una selezione di tiro diversa rispetto a sopra di 10 con 3 minuti da giocare o 4 minuti da giocare e secondo me sono situazioni che devono essere allenate quindi l'utilizzo del tempo e del punteggio gli scarti le partite con lo scarto secondo me sono fondamentali perché è normale che la selezione di tiro sotto di 10 con 4 minuti da giocare è una selezione di tiro diversa e chiaramente sarà una selezione nella quale ci sarà abuso di early offense probabilmente mentre la selezione di tiro sopra di 10 con 4 minuti da giocare sarà una selezione di tiro diversa quindi secondo me la risposta non la do a livello individuale che è la cosa che hanno fatto perfettamente i due Andrea invece penso più a una risposta che riguarda la squadra sono molto convinto che la scelta dei primi 7 secondi e degli ultimi 8 secondi sia una scelta che dà alla squadra un equilibrio e una stabilità posso farvi una domanda che mi cruccia a voi due scelta di tiro vuol dire anche determinare come si fa adesso i tiri che non vuoi prendere tiri dal palleggio da due punto di domanda vi aggiungo cosa mi è successo ieri in partita a un certo punto facciamo prendiamo un falle canestro ok quindi una brutta un brutto possesso difensivo andiamo di là il mio playmaker americano che è bravo zingarata ne semina 4 e sbaglia un terzo tempo andiamo di là altro gioco da 3 punti time out e io gli spiego e lui non capisce guarda che in generale il tuo tiro è perfetto il momento della tua scelta non era giusto lui mi guarda come se avessi detto che sua mamma non andava bene ecco e e aggiungo vedi noi abbiamo appena fatto un brutto possesso difensivo tu rispondi con un'azione individuale nessuno dei tuoi compagni ha toccato la palla guarda li hai seminati tutti ok lì ha un brutto possesso difensivo si dovrebbe rispondere con un'azione di squadra la devono toccare poi se la tiri tu fa bene lo stesso non è che c'è il nome sulla palla non mi ha capito mi ha guardato come se dicessi per fortuna che ho Lucic che l'ha abbracciato e l'ha detto prendi quel tiro ma dopo ha fatto il mio lavoro mi ha aiutato però torno alla mia domanda sì assolutamente quanto dicevo prima cioè il momento allenare il momento esempio banale finale promozione a due Trieste Bologna Trieste ha un giocatore Giavonte Green che adesso gioca in NBA uno che salta uno che butta giù il canestro allora la squadra aveva capito perché aveva allenato questa capacità ogni volta che Giavonte Green fa un intercetto e una schiacciata noi dobbiamo fare un possesso di attacco mano dove bisogna fare per forza almeno cinque passaggi perché era l'unico modo che spegneva il furore agonistico di questo giocatore quindi qual è la selezione di tiro in quel caso era fondamentale allenare la squadra che dopo un canestro e fallo subito noi non possiamo fare un tiro early perché poi dopo il tiro early probabilmente ci sarà un possesso difensivo non equilibrato e quindi noi rischiamo di prendere 6 a 0 e nella palacanestro non si possono fare due errori consecutivi figuriamoci tre mi fa molto piacere questo che sto detto perché io penso che chi allena il settore giovanile voglio fare un pochino di deve allenare il giocatore ad essere pronto a giocare con la prima squadra cioè il settore giovanile serve a questo parliamoci chiaramente non è che questa è pallacanestro questa che adesso hanno detto Ale e Andrea è pallacanestro se io non l'alleno da giovane non sto allenando alla pallacanestro cosa voglio dire faccio degli esempi molto pratici di quello di cose accadute a me ragazzi quel giocatore nello scouting report giocatore di esaltazione se segna il primo tiro ne mette due consecutivi e gli avversari non tutto questo però questo è il concetto gli avversari vanno da lui quindi se quel giocatore segna il primo tiro il secondo tiro non lo deve fare punto riuscire a far capire questo a una squadra under 18 che fa i campionati europei e si gioca a piazzamenti anche belli è molto complesso è molto complesso e allora significa che noi non alleniamo queste cose invece noi le dobbiamo allenare cioè la visione di Andrea Di Ale è una visione chiara che non si allena la tecnica a punto perché quel gesto tecnico del playmaker di Andrea ne ha seminato i quattro ha sbagliato un tiro buono se lo vediamo solo con un modello in testa tecnico è un tiro perfetto ma la palacanessa non è solo tecnica non è solo tecnica io ho allenato secondo me un giocatore che era un po' di anni fa Roberto l'ho allenato in nazionale purtroppo io ho allenato alla fine della carriera che è Davide Bonore Davide è lì e vi dico gli altri playmaker che ho allenato dopo hanno avuto la fortuna che io avevo allenato Davide prima Davide aveva una capacità incredibile in quell'anno io allenavo a Davellino Tony Bobbitt un giocatore definirlo folle è poco giusto un pochino però se metteva il primo e il secondo l'unica cosa da fare era picchiarlo ma spaccarlo perché poi più veniva picchiato più segnava quindi bisognava spaccarlo Davide era micidiale primo, secondo Davide bom, bom, bom palla a lui se Tony sbagliava il primo e il secondo tiro Tony era un disastro e Davide più di una volta diceva scusa non ti ho visto e non gli dava la palla e non gli dava la palla ma queste cose qua noi le possiamo insegnare? no le dobbiamo insegnare non le possiamo perché questo è pallaganestro perché il giocatore deve crescere a questo io ho allenato qualche giovane bravino proprio è qua molto bravo se vicino c'è Carro e dall'altra parte c'è David Moss sulla linea di tre punti libero e libero la palla va a Carro non va a David punto perché Andrea diceva la democrazia perché ho rispetto dei ruoli c'è chi sa far meglio noi dobbiamo diventare un pochino come bambini perché i bambini sono bastardi quando fanno il tocco per fare le squadre chi è l'ultimo che scelgono? quello più scarso invece noi allenatori certe volte diciamo poverino ha toccato la palla giochiamo questo gioco per far toccare la palla no ragazzi non è prendersi cura è prendere in giro e noi non ci possiamo permettere di prendere in giro allora mi è piaciuto molto questo intervento per far capire che cosa serve il settore giovanile cioè più di Andrea D'Ale oh ma basta ma sarà che io sono sfortunato ho sfigato ma tutti i lunghi avversari scarsi a piedi liberi io non riesco mai a mandare l'unetto cioè mi fanno 6 su 7 da sotto ma 0 su 5 a piedi liberi non mi riesco cioè mandare l'unetto ad un avversario che non insegna a piedi liberi è fondamentale è fondamentale era uno sfogo quindi senza microfono io dicevo che aver la capacità di mandare in lunetta avversari che non sono efficienti nei tiri liberi è fondamentale e invece non è facile non è facile cioè io ho vissuto personalmente partite dove il lungo avversario ha tirato 6 su 7 da sotto e 0 su 0 ai tiri liberi e invece lui deve fare 4 su 8 ai tiri liberi e non tirare da sotto e questo è un pezzo fondamentale della preparazione di una partita della preparazione mentale di un giocatore era una domanda cioè a livello giovanile si riesce a essere efficienti e convincenti in questo senso secondo me la prima cosa che va insegnata è la conoscenza del gioco e questo è un aspetto di conoscenza del gioco e io penso che noi abbiamo il dovere anche di far capire queste cose cioè io non ti insegno come si fa il fallo però io ti insegno come dico quel giocatore è più bravo a destra piuttosto che a sinistra che poi i giocatori guardano e dice eh sì 9 a destra 8 a sinistra significa più bravo a destra pure 6 a 8 così dobbiamo capire il giocatore su cui fare fallo o meno guarda mi sta dicendo tutte cose che purtroppo mi ritrovo con i migliori giocatori italiani cioè noi abbiamo parlato abbiamo iniziato dal post basso degli esterni in Italia under 18 under 19 due squadre giocavano nel post basso degli esterni proprio come non come regola però con con efficacia con con capacità veramente le altre difficilmente mandano là un giocatore basta guardare le partite di Eurolega di Serie A tutte le squadre mandano un giocatore lì cioè in momenti decisivi è tutto allora io dico ma se gli allenatori del settore giovanile devono confrontarsi con gli allenatori senior punto perché perché noi perché loro ci diranno ragazzi quello che ha detto Alessandro adesso domani andate in palestra sul primo fallo e canestro primo fallo e canestro e fa un vostro giocatore voi avete il dovere di dire al giocatore questo fallo e canestro vale tre punti questo fallo e canestro cioè non abbandonare quello è gioco quello è gioco quello è gioco cioè noi abbiamo battuto il record quest'anno per falli tecnici per flopping non so se avete visto le partite degli europei direi 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 il problema di Alessandro lo vivo anch'io tantissimo ho cominciato spiegando ai miei giocatori come si fa fallo non ha funzionato perché l'appeal del mio accorato appello era pressoché zero allora ho cambiato e ho visto un minimo miglioramento eppur si muove ho detto io vorrei avere giocatori consapevoli che hanno quattro falli da spendere per la squadra e che facciano fallo che l'arbitro fischi fallo a loro quando lo vogliono fare non io odio i giocatori no non volevo far fallo non era fallo cioè io vorrei che i miei giocatori facciano fallo è una parte del gioco questo è l'inizio e poi dopo possiamo parlare di come si fa fallo perché c'è una tecnica perché abbiamo perso abbastanza la maniglia sul settore arbitrale ci sono una marea di antisportivi perché è molto complesso adesso fare fallo perché vuoi fare fallo perché se vuoi fare fallo non giochi la palla e questa discriminante non ha giocato la palla è contro la logica del gioco i falli fanno parte del gioco ok sono molto d'accordo sui falli di eccessiva violenza lì anche cacciarlo un giocatore se fa male un altro giocatore ma provare a far fallo e la palla non è vicina secondo me però questa è una mia battaglia contro i muni di evento come Don Quixote provare a instillare ai giocatori ai 4 falli se abbiamo un roster da 10 sono 40 falli da spendere prima che qualcuno vada seduto in panchina che è quello che non vogliono ok facciamo fallo consapevole di farlo questa azione richiede che io faccia quel fallo e alziamo la mano ho fatto fallo invece di dire no 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 cioè non l'ho neanche toccato ok quindi e da lì poi provo a insegnargli la tecnica a proposito degli ultimi esempi che avete fatto appunto del suo playmaker che ha sbagliato il layup e tutto quanto quanto lavorate a livello comunicativo con i giocatori perché anche secondo me riprendendo anche l'esempio che dicevamo prima dell'esterno che va a giocare in post o anche viceversa il lungo che gioca fuori dal perimetro e le prime volte che ci prova probabilmente non ha fiducia e sbaglia e poi ti capita il giocatore perché diciamo tutti i giocatori non sono uguali quindi ti capita il giocatore tipo l'esterno che gioca in post i primi tentativi sbaglia sbaglia perde fiducia quanto ci lavora a livello comunicativo per convincerlo a continuare perché poi va a finire che un giorno parlando del settore regionale un giorno cresce tanto sto ragazzo va a giocare in post e deve saper giocare in post basso perché come diceva andrea precedentemente i ragazzi che escono al settore giovanile devono stare pronti per giocare in una squadra senior allora quanto lavoriamo sull'aspetto mentale comunicativo sempre ogni secondo di ogni allenamento è un intervento costante dal punto di vista mentale motivazionale perché perché è il nostro lavoro più ancora che disegnare degli schemi è il nostro lavoro poi entrando nel dettaglio tu hai fatto l'esempio di un ragazzino che fa fatica a trovare gratificazione in certi in certi movimenti cestistici non entro nell'argomento è chiaro che il settore giovanile è diverso da una prima squadra quindi è normale che tu debba essere di supporto non dobbiamo fare l'errore opposto come diceva Andrea di mettere il giocatore sbagliato nel posto sbagliato o perlomeno di metterlo troppo spesso nel posto sbagliato però questo è una dinamica completamente diversa se invece la domanda è relativa a una prima squadra una squadra senior quanto è l'intervento comunicativo nei confronti del giocatore è costante obbligatoriamente costante non potrebbe essere diversamente una cosa che a me ha sempre mandato fuori di testa quando ero istruttore dei corsi allenatori quando l'allenatore correggeva oppure quando vado a vedere dei colleghi e mi chiedono qualche cosa l'allenatore correggeva e il giocatore non se ne fregava lui chiedeva all'allenatore scusa ma tu perché correggi e lui mi rispondeva ma non mi sente e io proprio dico ma come cioè la correzione non serve per riempirmi la bocca serve per far arrivare un messaggio se il messaggio non è arrivato non abbiamo corretto allora la comunicazione è fondamentale e poi assolutamente se tu pensi ed era una cosa quando ogni tanto parlavo con Andrea quando si poteva parlare che allenava a vero e tutto adesso non mi caga più e una cosa che colpiva molto di Andrea e di tutti i grandi allenatori è la capacità di parlare cioè adesso Marco Lamondino ci parlo tutti i giorni quindi figuriamoci la capacità di comunicare nella lingua del giocatore perché è fondamentale questo cioè veramente parlare per far arrivare i messaggi se no non stiamo allenando e se tu pensi il coaching che significa il coaching è il cocchiere cioè chi guida la carrozza chi guida la carrozza se il cavallo va nel fosso significa che non è stato bravo che non ha tirato le briglie oppure non le ha lasciate andare e noi siamo questi logicamente in un modo più complesso perché non abbiamo le briglie in mano abbiamo l'arte della saper comunicare l'arte di saper leggere il giocatore a livello proprio linguaggio non verbale che è poi il linguaggio quello che viene più utilizzato la mancanza di coerenza tra il linguaggio verbale e non verbale non si può allenare Andrea diceva che cosa vuol dire allenare allena dare forza se io non do forza non alleno e il modo in cui io posso dar forza è la capacità comunicativa che non vuol dire va bene va bene va bene quello non è dare forza quello è prendere in giro quindi è fondamentale la capacità di comunicazione di proprio di saper parlare di sapermi comportare di saper mantenere il mio ruolo di allenatore questo è fondamentale il problema è che tante volte noi allenatori non ci crediamo noi pensiamo che i dirigenti non ci credono ma no siamo noi allenatori e non ci crediamo stesso noi perché vedere i giocatori che vanno che vanno e noi abbiamo la capacità di dirgli un qualcosa penso che 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 veramente sia troppo riduttivo per il nostro per il nostro ruolo c'è una sola cosa che non potete permettervi di fare di non conoscere la materia e la materia è la pallacanestro questo è la chiave per entrare a fare il nostro lavoro ho visto con i miei occhi allenatori paurosi di comunicare una scelta alla squadra perché esponevano se stessi alle conseguenze della scelta ho visto allenatori paurosi di correggere un veterano perché sanno che il veterano poi gli farà una domanda a cui lui non ha la risposta e il veterano ce l'ha perché l'ha già vissuta non abbiate paura di far sapere ai giocatori che allenate che ne sapete non è arroganza è per sopravvivere però poi dopo c'è un'altra parte questa è la chiave per aprire la palestra per rimanerci in palestra dovete saper parlare ai giocatori dovete saper ascoltare e parlare ai giocatori non vuol dire parlare di pallacanestro sempre voi dovete stabilire un ponte una connessione un link e magari questo giocatore vuole che gli chiedate come sta la famiglia come sta la moglie che sta per partorire che li lo rinforziate quando è giù perché ha sbagliato il tiro libero per vincere o c'è gente io ho avuto giocatori che poi sono andati a guadagnare 20-25 milioni che mi chiedevano per favore stammi adosso da solo non sono capace da solo mi meno via rompimi i coglioni ogni giorno ecco questa è comunicazione la comunicazione non è solo quello che dite come lo dite a chi lo dite quando lo dite ed è un lavoro molto complesso però sa da fare io credo che con questo intervento di Andrea possiamo chiudere questo primo open speech io sono molto contento la domanda sulle scelte di tiro è una domanda mia su cui mi sono molto fissato in questo periodo perché secondo me è una cosa importante perfettamente direi interessante io direi che da questo incontro voi potete portare a casa molte cose noi adesso rimonteremo e metteremo sulla nostra pagina youtube che è in fase di costruzione anche tutto questo incontro però la cosa importante è che loro vi hanno portato costantemente dal sapere come ha detto adesso Andrea che è fondamentale al sapere essere al saper comunicare è un continuo mettere insieme le cose continuo ed è un non è un lavoro facile però ognuno lo può fare al proprio livello questa è un'altra cosa importante sapere dove andare se io mi piace la montagna però non è che vado a scalare la montagna vado in montagna fin dove posso andare io nella mia vita l'ho fatto sono arrivato a un certo punto ho detto ma forse è meglio che faccio un passo indietro e in genere a tutti vi chiedo studiate 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 voi stessi perché da voi stessi nasce poi dopo l'allenatore che comunica con gli altri noi abbiamo un ruolo fondamentale in questo momento siamo forse più ascoltati dei genitori per quello che ascoltano i ragazzi d'oggi ma i ragazzi d'oggi se voi siete capaci di comunicare vi ascoltano non è vero che non ascoltano e quindi ripensate ragionate su quello che è stato l'incontro oggi perché secondo me è stata una cosa a mio modo di vedere molto interessante vi chiedo di rispondere alla mail che avete ricevuto mandando le vostre impressioni che ci serviranno per andare avanti oggi l'abbiamo fatto bene ho fatto suonare un paio di volte a sproposito la campana la prossima volta faremo meglio però io credo che sia una cosa molto interessante ringrazio molto Alessandro Andrea ed Andrea e tutti voi grazie grazie grazie